I più giovani di noi stanno raccogliendo le firme per chiedere al governo che presto tutti i bambini che nascono qui in Italia possano essere cittadini italiani come in tanti paesi del mondo. È una campagna di umanità e civiltà importante. Con tanti ci vogliamo fermare qui adesso per pregare insieme, per dire basta alla violenza e basta all'indifferenza che ci colpisce. Perché si può fare qualcosa? Si può iniziare a fermarsi? Per questo motivo adesso con tutti quelli che vogliono partecipare vogliamo fermarci insieme per pregare per la guarigione di questa ragazza che è stata credita qua per pregare per la sua guarigione, per la guarigione del cuore di tutti e per la liberazione di tutti dall'indifferenza e dalla violenza.